Io credo che l'Italia debba assolutamente fare qualcosa, perché noi stiamo vivendo un doppio declino, un declino economico ed un declino demografico, che si avvitano su di loro. Ogni anno noi perdiamo praticamente una città come Bergamo di giovani che vanno all'estero, e sono spesso i giovani maggiormente istruiti. Siamo l'unico paese dell'area Ocse che si è impoverito negli ultimi vent'anni assieme alla Grecia. Una cosa che si potrebbe fare benissimo, a mio giudizio, è quella di azzerare i contributi sociali che devono pagare all'ingresso nel mercato del lavoro, poi chiaramente questo decrescente con l'età, e permettere a queste persone quindi di trovare il lavoro più facilmente e di avere dei redditi più alti.